Crediamo che il miglior modo per imparare sia provare emozioni e la parte che amiamo di più del nostro lavoro è crearle. Ci ispiriamo alla famosa frase di Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo. Per questo motivo ci piace produrre corsi che mettono gli utenti al centro dell'esperienza generando stati emotivi con elementi sensoriali costruiti ad hoc da un dream team di creativi che vogliono cambiare le cose. Ecco cosa c'è dietro il digital learning made in Italy. Oggi ci prendiamo cura degli interessi formativi di oltre 650 clienti e di oltre un milione di studenti. Lavorando sia alla creazione di contenuti ad hoc sia alla distribuzione di Articulate, il software più usato al mondo per la creazione di corsi e-learning. Corsi personalizzati, qui è dove comunicazione e contenuti si fondono per dare vita ad un'esperienza personalizzata e coinvolgente in cui l'emozione genera ricordo e il ricordo genera apprendimento. Una condizione di consapevolezza che viene raggiunta ed esaltata tramite l'uso di interattività, storytelling e gamification, integrati in un ambiente pensato per matchare branding e usabilità. Siamo gli unici rivenditori in Italia di Articulate, lo strumento più utilizzato al mondo per la creazione di corsi e-learning. Mosaico, infatti, non solo crea corsi customizzati, ma fornisce i migliori software sul mercato e insegna come usarli in autonomia grazie ad efficaci training in aula o online che possono anche essere costruiti su misura. Siamo gli organizzatori del primo open event dedicato al digital learning in Italia, Learning 360. Una giornata di show e divulgazione scientifica, in stile TED, pensata per la condivisione di case history provenienti dai nostri migliori clienti e l'analisi dello stato dell'arte della formazione online in Italia e nel mondo. L'ultimo biennio marca progressi record in termini di corsi prodotti e licenze Articulate distribuite e ci vede premiati per ben due anni consecutivi con il prestigioso Le Fonti Award Source of Business. Riceviamo l'ambitissimo Steve Award all'interno degli International Business Awards che fanno parte del programma di premiazione in ambito business più importante al mondo e che ha ricevuto oltre 12.000 candidature da 79 paesi. La famosa rivista anglosassone per manager HR-CV Magazine celebra Mosaic Re-Learning come Most Outstanding Distance Learning Cursist Organizer e Maurilia Battaglia, CEO di Mosaico viene inserita da Startup Italia tra le mille donne che stanno cambiando l'Italia grazie al digitale. Con un fatturato che registra trend di crescita ogni anno a partire dalla nostra fondazione l'obiettivo a breve termine è di ispirare sempre più organizzazioni nazionali e internazionali alla cultura del digital learning ed incrementare l'esportazione di una formazione fatta di qualità, stile e design made in Italy. Unisciti a noi e prendi parte al cambiamento. Se puoi sognarlo, puoi farlo.